Ciao Darwin, sei puntata intera. In questo video ti spiego perché purtroppo non è presente qua su YouTube la puntata intera di Ciao Darwin Sei, perché purtroppo il copyright non è altro che una norma secondo cui chi crea dei contenuti non vuole che i suoi contenuti vengano divulgati su internet. Ciò significa che Mediaset in questo caso non vuole che su YouTube appaiano i suoi video, i suoi prodotti di conseguenza bandisce categoricamente chi eventualmente crea dei contenuti che appartengono a Mediaset che è una società per azioni e non vuole che siano presenti su YouTube di conseguenza non troverete mai trasmissioni di Mediaset su YouTube quelle che provete a caricare verranno eliminate dopo poco a seconda di quando Mediaset si accorgerà del video in questione dopo lo segnalerà YouTube e YouTube stessa senza battere il ciglio eliminerà il video o i video di Mediaset quindi fate molta attenzione vi ringrazio per tutto, mi auguro di essere stato piuttosto chiaro e sintetico nella mia spiegazione quindi non troverete, ripeto, non troverete mai roba di Mediaset su YouTube accontentatevi delle recensioni o delle analisi che troverete ma anche degli assunti che qualcuno come il sottoscritto di solito fa per incentivare le persone a vedere video nonostante non siano più presenti nel web grazie, un cordiale saluto a voi tutti